bianca 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 omaggio unanime al film di gianni moretti e allora ce n'era ancora una non erano finite vediamo se c'è qualche sorpresa se si conferma il sempre bianca bianca napolitano grazie bonino calderoni fabio di micco romani bene invito i senatori segretari provvisori a procedere al computo dei voti per quanto non mi pare presenti particolari complessità presenti presenti 300 317 votanti 317 maggioranza 161 hanno hanno voti dispersi 5 schede bianche 312 schede nulla nessuna proclamo il risultato proclamo dopo aver letto il computo il risultato della votazione e poiché nessun senatore ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del senato occorre procedere ai sensi dell'articolo 4 del regolamento ad una seconda votazione a scrutinio segreto con la medesima maggioranza richiesta che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 17 la seduta e sospesa che avrà luogo stile